Buona domenica, bentrovati in una nuova edizione del Tg6 la settimana. Terminate le vacanze natalizie, lunedì mattina anche a Pescara si è tornati sui banchi di scuola. Tra richieste di dade e assenze di professori già si registrano alcuni problemi specie all'interno degli istituti superiori. Diversa la situazione nelle scuole primarie e secondarie. Vediamo il servizio. I ragazzi hanno un grande, grandissimo senso di responsabilità. Rientro tutto sommato tranquillo all'istituto comprensivo 1 di Via Einaudi a Pescara. Al primo suono della campanella, dopo le festività natalizie, non si sono riscontrate particolari difficoltà. Anche se l'attenzione per l'aumento dei casi Covid-19 in città tiene alta la barra dell'attenzione. Il governo è forte del nuovo decreto anti-Covid, mentre la comunità scientifica prevede il ritorno di tutto il sistema in DAD nel giro di poco tempo. Noi a seconda dell'ordine di scuola dobbiamo mettere in quarantena le classi, se si verificheranno dei casi all'interno del contesto scolastico. Noi dirigenti scolastici non credo che abbiamo delle competenze sanitarie tali da poter fare così delle valutazioni. Questa è la normativa. Noi applicheremo questa normativa sperando che chi ha partorito queste misure abbia indovinato. Preoccupa invece la situazione nel liceo classico. In mattinata già diverse le richieste di attivazione per la didattica a distanza, mentre la positività di alcuni docenti ha lasciato scoperte intere classi. La preside Antonella San Vitale. L'assenza dei docenti è problematica per l'organizzazione e l'abbiamo rilevato solo da questa mattina perché oggi si tornava in servizio pieno. Faccio un appello proprio dobbiamo unire le forze, tantissime le forze di tutte le realtà che hanno la responsabilità sulla sicurezza per garantire la scuola in presenza. Altrimenti da sola la scuola non ce la fa, anche perché, vi ripeto, l'ordinamento ci impone che prima di dieci giorni non possiamo chiamare supplente. La difficoltà per i medici la fanno di fare i certificati, di prevedere il periodo. Per cui stamattina alcune classi erano scoperte. Per cui è fuori discussione che la scuola è in presenza, ma dobbiamo unire tantissime forze in modo sinergico per permettere che la scuola continui a essere un servizio efficiente in presenza. La mancanza di personale specifico fa già storcere il naso ai sindacati a sole 24 ore dall'entrata in vigore del Green Pass e dell'obbligo della mascherina FFP2 sui mezzi pubblici. A Pescara la CGL è preoccupata anche per il diffondersi della variante Omicron che fa registrare diverse assenze tra il personale. Vediamo. Il day after l'entrata in vigore del Super Green Pass e della mascherina FFP2 obbligatoria sui mezzi pubblici, anche quelli urbani, non ha lasciato indifferente i lavoratori di questo settore che si dicono in difficoltà per quanto riguarda il controllo proprio del certificato verde rafforzato. Il controllo del Super Green Pass e che bisogna indossare la mascherina FFP2 è stato delegato ai verificatori dei titoli di viaggio. Attualmente il servizio urbano di Pescara ne ha in forza, non ricordo bene, se 4 o 5. Va da sé che per controllare una mole di corse giornaliere che in un periodo invernale scolastico si attestano a circa 900 corse più le corse suppletive risulta essere un numero abbastanza esiguo per espletare un controllo capillare relativo al quadro normativo. Ci pare di capire che in una corsa classica potrebbero salire delle persone che non hanno Green Pass e non essere controllate? Sì perché questo controllo per i primi giorni, per il primo giorno diciamo è stato espletato prioritariamente alla partenza proprio qui dal terminal. Va da sé che comunque in itinere potrebbero comunque salire delle persone che sono sprovviste del Green Pass oppure della mascherina FFP2. E spesso come personale viaggiante, come autisti ci troviamo anche in difficoltà. E l'espandersi a macchia d'olio della variante Omicron sicuramente creerà dei problemi anche a questo settore. In tanti autisti e controllori che in questi giorni non sono al lavoro potrebbero verificarsi delle soppressioni e delle corse. Sì si potrebbe verificare tranquillamente una situazione del genere. Molte corse attualmente vengono espletate soprattutto grazie al personale viaggiante che si sta prestando a una mole di straordinari veramente alta. In questo caso la CGL cosa chiede? Noi chiediamo delle disposizioni aziendali su come comportarci perché non avere delle disposizioni da applicare nell'espletamento del servizio ci pone in una condizione veramente di difficoltà. Ormai è deciso, il nuovo ospedale di Teramo sorgerà a piano d'accio. Costerà 260 milioni e sarà pronto nel 2028. A confermare la fattibilità del progetto è stata l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Veri nel corso di una riunione che si è tenuta con i vertici aziendali della ASL Teramana e con i rappresentanti politici del territorio. L'ultimo nodo da sciogliere è come reperire una parte della somma necessaria che ancora manca. Intanto in strada il comitato Promazzini ha inscenato un sit-in di protesta. Vediamo. E' deciso. Il nuovo ospedale di Teramo si farà e sarà realizzato nell'area di piano d'accio, periferia est del capoluogo aprutino, al ridosso della Teramo Mare e del centro commerciale Gran Sasso. Costerà 260 milioni di euro e offrirà 50 posti letto per acuti. Una megastruttura che si dovrebbe completare entro il 2028 e che renderebbe Teramo molto attrattiva dal punto di vista sanitario e non solo. L'imprimatur definitivo è arrivato dall'assessore alla sanità della regione Abruzzo, Nicoletta Verì, che ha voluto incontrare personalmente, proprio nella sede dell'ASL Teramana, i vertici aziendali e i rappresentanti politici regionali del territorio. Nel corso della riunione l'assessore Verì ha condiviso la scelta del sito effettuato dall'ASL di Teramo e la necessità di costruire un nuovo e moderno nosocomio per rilanciare l'offerta sanitaria teramana. Ha poi analizzato nel dettaglio i costi e i modi dell'operazione. Dei 260 milioni necessari ne sono già disponibili 120 risparmiati nel corso di questi ultimi anni. Altri 40 saranno reperiti attraverso fondi statali per l'edilizia sanitaria, ma ne mancherebbero 100 di milioni per raggiungere l'intera somma. Su questo ultimo punto non ci sarebbe ancora una decisione definitiva su come reperire i finanziamenti. Le opzioni potrebbero essere quelle di puntare su un project financing, con il coinvolgimento dei privati, o procedere alla richiesta di altri fondi pubblici. Intanto, contemporaneamente alla riunione che si teneva in circonvallazione Ragusa, si è svolto un sit-in di protesta da parte dei sostenitori del Comitato Promazzini, che hanno ribadito il proprio sì al nuovo ospedale, ma da ricostruire su quello vecchio. Il timore è che l'attuale nosoccomio teramano resti una scatola vuota e l'intero quartiere circostante di Villa Mosca possa morire lentamente. Sull'argomento però, il direttore generale dell'Asla di Teramo, Maurizio Di Giosia, è stato categorico. Il Mazzini sarà riconvertito, diventerà la sede di tutti gli uffici aziendali e degli ambulatori specialistici. Non perderà alcuna trattiva. Reparti pieni, contagi in salita. La quarta ondata, come spiega ai nostri microfoni il direttore della Clinica di Malattie Infettive della Santissima Annunziata di Chietti, Vecchiet, sta mettendo a dura prova il lavoro dei sanitari. L'invito da parte dell'infettivologo a chi non lo abbia ancora fatto è quello di vaccinarsi. Vediamo. Professore Vecchiette, qual è la situazione a pochi giorni dal termine delle feste? Reparti ospedalieri pieni, reparti riconvertiti alle Covid? Insomma, la situazione non è sicuramente semplice. No, diciamo che è avvenuto quello che immaginavamo. Mi sembra che sia un dato non soltanto locale, ma assolutamente regionale e nazionale. ovviamente gli ospedali hanno di nuovo dovuto riconvertire delle strutture dedicate ad altre patologie perché l'affluenza dei pazienti con grave insufficienza respiratoria è progressivamente aumentata. Per quanto ne avremo ancora? Se si può dire, professor Vecchiette. Guardi, io questo francamente non glielo so dire. Spero poco e innegabile che però la curva dei contagi diminuisce e aumenta anche in base ai nostri comportamenti. Ci sono anche delle nuove cure che sono state introdotte negli ultimi mesi. Come stanno rispondendo? Guardi, sicuramente abbiamo avuto ottimi risultati sull'utilizzo degli anticorpi monoclonali e poi c'è da pochi giorni una nuova opzione terapeutica. è una terapia orale, sono delle compresse che dovrebbero agire inibendo la replicazione del virus e questo dovrebbe dare un vantaggio sulle cure domiciliari. La terapia si fa per cinque giorni, noi abbiamo già incominciato a proporla ad alcuni pazienti. Devo dirle in maniera pratica, l'unico limite è che è tanto più efficace quanto prima viene iniziata dall'inizio dei sintomi. E questo è un po' un limite. I numeri, professor Vecchiette, dicono che l'Abruzzo è al limite della zona arancione. Insomma, cosa c'è da aspettarsi? Le ripeto, io non ho una sfera di cristallo, ritengo che appunto se da parte di tutti c'è una maggiore attenzione rispetto ai comportamenti individuali, quindi mascherina, distanziamento, sanificazione delle mani, ma più di tutti la vaccinazione, quindi la terza dose che si è visto che protegge e riduce anche la diffusione della trasmissibilità del virus, ma soprattutto per chi non avesse fatto il vaccino è veramente arrivato il momento di vaccinarsi. Per chiudere, se ne sta parlando tanto, la riapertura delle scuole, ci sono favorevoli e contrari? Qual è la sua posizione? Ma guardi, nei prossimi giorni capiremo se è stata una manovra corretta o imprudente. È chiaro che se i focolai dovessero aumentare, dovessero veicolare il virus nelle famiglie, e a questo punto noi rischiamo che a seconda se in famiglia i soggetti sono vaccinati o no, potremmo avere di nuovo un impatto importante sull'ospedale, perché non essendo vaccinati e magari avendo anche motivi di fragilità, avrebbero probabilmente bisogno della ospedalizzazione. Quindi questo lo capiremo nei prossimi giorni. Io devo dirle personalmente in maniera prudente, avrei preferito che per almeno un paio di settimane venisse evitato il ritorno dei ragazzi a scuola. L'amministrazione comunale di Pescara sta lavorando nella sede del centro direzionale Dececo, dove, come ha assicurato il primo cittadino Carlo Masci, aprirà il nuovo centro vaccinale, terzo in città. Vediamo. È iniziato il conto alla rovescia per l'apertura del nuovo hub vaccinale di Pescara, come noto sorgerà nel Palazzo Fuxas e via Inaudi. Si stanno portando avanti in questi giorni intanto i lavori di adeguamento della struttura, che aprirà al massimo entro dieci giorni, come assicura il sindaco Carlo Masci. Noi abbiamo preso possesso di quello spazio, abbiamo verificato il numero di parcheggi nelle vicinanze, ci sono circa 300 posti auto, quindi sufficienti per accogliere tutti coloro che andranno a vaccinarsi in questo periodo. Stiamo smontando dei pannelli per creare degli ambienti molto ampi. Il lavoro in corso prosegue alacremente, quindi nei prossimi giorni la struttura sarà a disposizione della ASL nei termini necessari per aprire il centro vaccinale. Il secondo centro vaccinale, anzi il terzo centro vaccinale, perché ne abbiamo anche uno per i bambini da 5 a 11 anni. In questo momento è possibile dare una data approssimativa per l'apertura? Ma io credo che la ASL si sia data una scadenza, che è quella di non il prossimo lunedì, ma quello successivo. Credo che sia il 24, quindi fra dieci giorni più o meno. La CISL Scuola lancia l'allarme sul numero di positivi nelle scuole. Critiche sono arrivate per il metodo con cui sono state gestite le campagne di screening. Segretario, voi avete parlato in questi giorni dell'esplosione di casi Covid nella scuola abruzzese. Situazione che voi ritenete sicuramente difficile? Sì, è una situazione difficile. Abbiamo detto che lo screening andava avviato per tempo, prima del rientro. Sebbene le intenzioni sono state positive, perché c'è stato questo ritardo però solo di due giorni, i risultati si sono visti. Appena il 60% ha partecipato, molti disincentivati dall'organizzazione. Ore e ore di attesa, soprattutto per i bambini più piccoli, che necessariamente andavano accompagnati, quindi file chilometriche, ore di attesa, un tempo troppo stretto. Se si fosse fatto lo screening in maniera diversa, con più tempo, con una migliore organizzazione, probabilmente il livello di sicurezza assicurato sarebbe stato maggiore e avrebbe convinto tanti al rientro a scuola. Perché lunedì 10 a scuola i ragazzi non c'erano. Voi sostenete che bisognava riaprire le scuole forse una settimana dopo, due? Sì, il tempo strettamente necessario per fare una reale campagna di screening, per trovare i positivi asintomatici, perché poi il problema grosso è stato questo. Abbiamo un picco enorme di contagio. Se in presenza, in passato abbiamo parlato di ondate, adesso siamo davanti a uno tsunami di contagio. Ci sono anche diversi insegnanti, personale scolastico, a casa a causa Covid? Sì, fortunatamente la copertura delle vaccinazioni è stata relativamente buona. Però appunto il picco di contagio ha coinvolto anche il personale, quindi tanti sono a casa con la malattia. Quindi in questa situazione, la seconda parte dell'anno scolastico, come si prospetta? Ovviamente si prospetta con carattere forte di discontinuità, perché man mano la popolazione scolastica e i lavoratori saranno interessati dal contagio. Le norme di precauzione nella scuola vengono rispettate, ma esiste sempre il problema del tempo prima dell'entrata, del tempo successivo all'uscita dei trasporti scolastici. In quelle condizioni non c'è alcuna prevenzione. Diversi voci negli ultimi giorni parlano di una crisi in seno alla maggioranza del comune di Chieti. A smentire il tutto però sono gli stessi protagonisti. Paolo De Cesare del pollo civico teatino da una parte e Enrico Iacobiti dall'altra che dicono lavoriamo per far crescere questa città. Vediamo. Nessun litigio e nessun rimpasto di giunta a Chieti. Dunque è rientrato, almeno per il momento, la possibilità di vedere mano e pantalone Paolo De Cesare lontani dall'attuale maggioranza. La conferma arriva dallo stesso vice sindaco e leader del pollo civico teatino, per cui gli impegni presi con la cittadinanza un anno e mezzo fa vanno mantenuti, soprattutto in questo momento storico, in cui le risorse derivanti dal PNRR saranno fondamentali per la ripartenza post-Covid. No, sono voci di chi si diverte a giocare a nascondino, direi. Credo che le elezioni a Chieti sia inequivocabile, che le abbia vinte non il centrosinistra, ma il centrosinistra con il polo civico teatino, che è quello che io mi onoro di rappresentare. Magari ecco, se c'è stato e se c'è qualche problema ordinario di amministrazione, lo si chiarisce, ci si confronta nei tavoli preposti, nei tavoli politici, perché indubbiamente ci possono essere anche diversità di visioni e di approcci alla macchina amministrativa, ma lo sono sempre nell'interesse della città e dell'amministrazione. Alcune vedute differenti su nomine di dirigenti, ma non solo, vedi le recenti elezioni provinciali, alla base di alcune discussioni accese tra il polo civico e il centrosinistra, che a sua volta smentisce di aver intavolato discorsi con il gruppo dell'ex candidato sindaco di Iorio. Se ne saprà di più a seguito di un incontro di maggioranza che sarà convocato da qui a breve dal segretario cittadino del Partito Democratico Enrico Iacobitti. Ed evidentemente su quel tavolo politico, qualora ci saranno delle necessità, saremo disponibili anche a delle valutazioni, ma nell'interesse, ripeto, anche della città e non evidentemente per la necessità, non so esattamente di chi, di volere ridiscutere di poltrone o di nuove, diciamo così, posizioni. Il tasso d'occupazione negli ospedali è preoccupante, e soprattutto perché mancano gli operatori sanitari. Il personale disponibile è già tutto assunto e al lavoro, ha dichiarato il Presidente Marsilio. Vediamo. L'Abruzzo per ora ha ancora i numeri da zona gialla, ma la situazione negli ospedali è critica. Lo ha detto ieri sera il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, a margine della riunione della cabina di regia regionale, conclusesi alle 22. Attualmente negli ospedali abruzzesi il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva è oltre la soglia del 20% che determina la zona arancione. L'unico dato ancora da zona gialla è quello che riguarda le aree non critiche, dove il tasso d'occupazione è 4 punti percentuali al di sotto del limite. Il numero di persone che sono oggi ricoverate, soprattutto in terapia intensiva, è un numero enorme. Io lo voglio chiarire perché le persone che non sono tecniche del mestiere pensano che avere il 10, il 15, il 20% di persone in terapia intensiva significa che i reparti sono semivuotici. C'è ancora tanto posto, ha voglia ad arrivare a 100. Non è così. Basta avere un 10-15% di posti occupati in terapia intensiva e gli ospedali vanno in overdose, vanno in tilt, cominciano a dover chiudere i reparti, non hanno più personale da dedicare alle sale operatorie, rinviano le operazioni. È questo il danno che si infligge da parte delle persone che finiscono in terapia intensiva. Possiamo aggiungere posti nei reparti e anche acquistare nuovi ventilatori, spiega Marsilio. A mancare però è il personale sanitario. I lavoratori disponibili sono già tutti assunti, ha dichiarato il governatore. Non è un problema di fare nuovi posti, ne possiamo fare ancora il doppio di posti di terapia intensiva. Basta che qualcuno ci spedisca o ci dia i soldi per comprare i ventilatori, lo facciamo anche a debito. Il problema è che non esistono anestesisti e reanimatori in numero sufficiente per curare e specialisti per poter curare le persone in quelle condizioni. E questi non si fabbricano, non si acquistano sul mercato, non esistono più, sono tutti assunti, lavorano tutti. Intanto prosegue la campagna vaccinale. Nell'ultima settimana in Abruzzo sono state somministrate circa 15.000 dosi al giorno. Rispetto alla settimana precedente il numero di prime dosi, inoculate agli over 50, è triplicato. Il 75-80% in alcuni casi di persone che sono oggi ricoverate in terapia intensiva sono persone che non si sono vaccinate. Questo è l'impatto vero e dannoso di chi ha scelto di non vaccinarsi e che ha condotto oggi a questa situazione di difficoltà dentro gli ospedali. Adesso cambiamo argomento, parliamo di sport, la risoluzione del contratto di Val di Fiori, le possibili uscite e i casi spinosi di Galano e Rizzo. Il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, presente alla partitela in famiglia dei Biancazzuri, ha affrontato le questioni riguardanti il mercato del Delfino. Vediamo. Presidente Sebastiani, l'ultima novità sul fronte mercato è la risoluzione di Mirko Val di Fiori. Come si è arrivati a questa decisione? Che era anche un po' nell'aria, anche se forse è arrivata un po' a sorpresa, ma soprattutto poi che impatto può avere sul mercato in generale del Pescara? Ma no, era nell'aria perché poi Mirko, che è un ragazzo molto intelligente, ha capito che non faceva parte del progetto tecnico del mister ed è stato, devo dire, un professionista esemplare fin tanto che è rimasto e quindi ci siamo accordati per chiudere qui l'esperienza in Biancazzurro. Anzi, addirittura gli avevo proposto, se voleva continuare, magari cominciare a fare qualcosa nell'ambito dell'area tecnica, però lui si sente ancora giocatore, vuole giocare, io gli auguro di trovare una soluzione che lo possa condentare. Possiamo dire che Marilungo, Galano e Rizzo sono le priorità, anche perché da quello che notiamo si allenano anche a parte, mentre giocatori, ad esempio, di cui si parla come Bocic, Frascatore, continuano ad allenarsi in gruppo, quindi potrebbero essere in uscita anche lo stesso Onzita, ma in realtà possono anche tranquillamente restare. Noi non abbiamo mai parlato di uscite di Bocic, di Nzita, di Frascatore, sono giocatori che sono stati da sempre nel progetto tecnico, nell'organico, il mister li ha sempre tenuti in considerazione. Su Nzita si è espresso più volte perché ha una grande stima del giocatore e chiede al ragazzo di comportarsi da professionista, perché secondo me può fare molto. Per gli altri purtroppo sono fuori dal progetto, un po' per specialità tecnica, un po' perché ci sono messi anche loro fuori dal progetto, perché dobbiamo essere onesti, non è sempre colpa di qualcun altro. Quindi bisogna trovare delle situazioni, forse fa storia a parte Marilungo, perché noi giocando con un attaccante solo è chiaro che non c'entra nulla a Marilungo come giocatore e c'entra proprio che non trovi spazio, quindi quello si fa. Per il resto credo che per Galano e Rizzo sia un discorso completamente diverso da tutti gli altri, perché Rizzo è arrivato voluto fortemente da noi, è arrivato e credo che probabilmente non aveva la testa giusta per essere qui, perché uno che fa quello che ha fatto Rizzo nelle ultime dieci partite credo che veramente debba essere richiamato al dovere, perché non si può fare quel gesto che ha fatto nella partita dove è stato squalificato per quattro turni, non si può arrivare in ritardo dopo nove giorni di vacanza, quindi è giusto che si trovi una collocazione. Galano purtroppo, ne parliamo da giugno, la sua volontà è stata sempre quella di andare via, però il giocatore dovrebbe capire o accettare qualsiasi cosa, perché se vuoi andare via devi accettare qualsiasi cosa, oppure devi capire quello che c'hai e quello che non c'hai. Io credo che un giocatore come lui, se si fosse messo nella condizione di fare il suo e magari aspettare o la scadenza del contratto a gennaio, in un'altra maniera probabilmente oggi avrebbe la fila, per quelle che sono le qualità di Cristian. Ma il Pescara è nelle condizioni di poter dare anche un piccolo incentivo all'esodo o si tratta della volontà del calciatore di abbassare un po' le pretese, perché immaginiamo che certi contratti anche in B ora non si possono più firmare in piena pandemia? Per quanto mi riguarda posso assicurarti che per me rimarranno qui tranquillamente, gireranno il campo per tutto l'anno, perché non c'è mai stata nessuna volontà della società di mandarli via, e lo sapete bene, se uno vuole andare via poi deve avere anche le palle per fare delle scelte. Conferenza stampa giovedì pomeriggio del presidente del Teramo Massimo Chierchia, che ha ufficializzato che il diavolo ha i soldi per portare a termine la stagione. Un traguardo ha amesso Chierchia molto importante. Il Massimo dirigente ha comunque ribadito che qualora ci fossero forze imprenditoriali disposte a rilevare la società per farla progredire, il gruppo che presiede sarebbe pronto a fare un passo indietro. Vediamo. E ci tengo a ringraziare la dottoressa Claudia Capuano, l'avvocato Paola Capuano e il giudice che segue il procedimento delle nostre aziende. E qui mi inviterai già a fare una riflessione. Per aver permesso e compreso che il pagamento dei miei sponsor, e cito, la Hemingat del dottor Mario Ciaccia, la Federazione Property del dottor Davide Ciaccia e la Edel Green Italia S.p.A. del sottoscritto, che sono fondamentali per l'esistenza della Società Sportiva Terramo Calcio 1913, per la sua città e non per ultimo per tutti i dipendenti, tesserati e chiunque ne riceve beneficio. specificando che i soldi messi nella Terramo Calcio, di questo sto parlando, sono delle persone citate e del Tribunale che già ho ringraziato per aver permesso questa cosa. Quello che oggi può sembrare la normalità, io vi chiedo di evidenziare che questo risultato ottenuto vale più di mille parole o promesse o del miglior calciatore da prendere sul mercato. Scusate, sono un po' cosiddetto di riparazione. E qui c'è da riparare per quello che si può o potrà fare. Tornando alla società, voglio dire che in questo periodo, nonostante le difficoltà personali ancora esistenti, abbiamo lavorato, argomentato e combattuto tutti i giorni affinché il Terramo Calcio continuasse a vivere come è giusto che sia. È innegabile che questi soldi servono soprattutto per il campionato, per la gestione e per finire il campionato. Non vanno buttati nel calciomercato, ma nella logica del miglioramento della squadra si può continuare anche a fare come stiamo facendo, perché secondo me già abbiamo migliorato la squadra. Se a noi ci danno la possibilità di continuare, lo faremo ben volentieri. Però, ripeto, se c'è qualcuno del territorio o fuori dal territorio che oggi farebbe il bene del Terramo, farebbe meglio di quello che facciamo noi, saremo disposti a fare un passo indietro. Noi non scappiamo, non ci tiriamo indietro, ma siamo a disposizione per chi potrà fare meglio di noi. Allora, assolutamente, Presidente Campitelli, ci siamo sentiti al telefono, sollecitato, non ha nessuna possibilità di mettere, da quello che mi ha detto, una situazione per diventare o fare gruppo, per rientrare nella società, ma lo ringrazio di nuovo, pur se fosse un euro, una telefonata di supporto, o qualsiasi cosa che oggi possa aiutare il Terramo Calcio. Anche per oggi termina l'edizione del TG6 La Settimana. Grazie di averci seguito, buon proseguimento.